Ci siamo lasciati domenica scorsa con questo prepotente interrogativo ma chi è costui? Vediamo di capire come svolgeva la sua giornata Gesù che cosa lo occupava, che segni manifestava ed infatti abbiamo lasciato Gesù alla sinagoga di Cafarno che ha terminato la sua esposizione, la sua parola e lo vediamo che trova il riconoscimento di tutti tutti si domandano con stupore la personalità di quest'uomo va in casa di Simone e come naturalmente trova sempre qualche cosa da fare un atto di misericordia da compiere una guarigione da operare e infatti trova la suocera di Simone che è ammalata e lui naturalmente si dà da fare al tramonto dice sempre la pagina del Vangelo già la casa è piena, è preso d'assalto perché la gente ha bisogno ammalati, indemoniati e lui è pieno di misericordia è calato il sole, Gesù cosa fa? Pensa la preghiera qui c'è tutto il problema della preghiera non è solamente una recita di formule ma è questo colloquio appassionato con il Padre e da lui riceve le indicazioni ma soprattutto vive di questo rapporto consumato nell'amore con il Padre vuole dare spazio a qualche cosa che lo costituisce noi lo vediamo che è l'annuncio di una verità totale sull'uomo è l'unica vera novità su cui la storia si deve misurare ma anche c'è un aspetto di liberazione Gesù libera, la liberazione è il segno evidente di una parola che apre il cuore che apre la vita, che ridona la speranza scaccia i demoni perché i demoni ci sono il maligno che è il principe di questo mondo continuamente dà battaglia a Gesù è inutile eluderlo perché è pieno il Vangelo di questo rimando al principe di questo mondo tanto è vero che San Giovanni dice testualmente figliuoli nessuno vi inganni chi commette il peccato viene dal demonio perché da principio lui è il nemico ecco allora teniamo presente questi aspetti così fondamentali che manifestano che Gesù è il figlio di Dio che sa dominare non solo la natura ma sa dominare anche chi questa natura la vuole sconvolgere e sconfiggere la vita del cristiano è proprio questo abbandonarsi insieme a Gesù in questo cammino di rapporto con il padre e di liberazione dell'uomo